Ping pong per tutti a Cerignola, ospite d'eccezione Patrizia Sacca, tra le altre cose vincitrice della medaglia di bronzo a Barcellona 1292, autrice di un libro, ma diciamo lo sport che cosa vuol dire per le persone e anche per le persone con disabilità? Beh lo sport è tutto, lo sport è vita, lo sport è benessere, lo sport è veramente la magia dell'incontro tra corpo, anima e spirito, sia che sia a livello agonistico, sia che sia a livello di benessere, come insegna il nostro Presidente Luco Pancalli nella famiglia paralimpica, quello che si promuove nel CIP, in tutti i CIP dal nazionale a tutti i regionali, è proprio quello di trasmettere alle persone con disabilità la possibilità di muoversi, di fare attività fisica, di non stare fermi, di non stare chiusi in casa, di comunque attivarsi, qualsiasi siano i movimenti, che sia da una cosa minima ad un magari disabilità molto grave, si può fare, si può e non si deve mollare mai, questa è la parola che mi viene di più, si può fare, si deve fare e soprattutto lo sport non è solo quello che vediamo in tv quando guardiamo tutti i nostri giocatori preferiti che giocano a calcio piuttosto che a pallavolo, piuttosto che a pallanuoto o che fanno scherpo o tennis tavolo, anche noi possiamo essere quegli stessi attori che vediamo in televisione, possiamo diventare anche dei famosi atleti paralimpici.